...e' rara anche i tempi. D'accordo, avrebbe dovuto decidersi. Vedi, non è che Vincenzino non abbia un lavoro e non faccia nulla. Quello che mi preoccupa è che non ha una posizione chiara. Ma tutti i giovani cresciuti durante la guerra sono un po' sfasati. Non è colpa loro, ma ad un certo punto trovano la via giusta. Speriamo. Ah, voi state qua. Che c'è, Ferdinando? Per poco non faceva la fine del pollo. Ferdi, a che punto stanno? Wonderful. La metà del pavile è già stata verniciata. Hanno cominciato dalla poppa. Domani il panfilo sarà finito. Bene, allora va a casa ad avvertire Maria che stiamo per arrivare. La signorina Maria non c'è. Ma che dici, Ferdi? Come non c'è? E se vi dico che non c'è, non c'è. Come vi posso dire che voi sarete nonno, nonno? Ferdinando, tu vuoi pazziare? Mister Gennario non pazziò. Voi sarete nonno, è presto. Ho visto con questi occhi la signorina Maria e il signor Alberto... Ah, donna e lei che c'è? Scusa, stavo scivolato. Ah, dicevo la signorina Maria e il signorino Alberto Sembravano due piccioncini. Donna e lei, ma questo è un calcio. Ho capito. Goodbye, bye bye. Questa sì che è grossa. L'altro giorno la miss, oggi i piccioncini. Ferdi? Ah, no, ma è venuto un utor psicologo. Sentite, signorina Maria. Ferdi, trattiene Don Gennaro un momento. Tu vieni con me, Maria. Don Gennaro, sentite. Don Gennaro, una parola, sentite, Don Gennaro, sentite. Ecco, vedi, quello è il conservatorio. Viviana uscirà a momenti. Appena le dirò che ci ha invitati a pranzo, non stava più in seda la gioia. Ciao. Ciao.